Da un lato avrebbe omesso di versare per il periodo d'imposta 2019 l'IVA per un ammontare pari a circa 3 milioni di euro, dall'altro lato risulterebbe in evidente stato di dissesto economico e questo è il motivo per cui nella mattinata di oggi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Messina ha proceduto con il sequestro di 3 milioni di euro nei confronti di una società messinese operante nella gestione dei supermercati e presente in numerosi centri della fascia tirrenica della provincia. Visto anche lo stato di dissesto economico il sequestro preventivo è stato realizzato soprattutto per assicurare alle casse dello Stato il recupero delle presunte somme sottratte alla tassazione. Le indagini sono scattate a seguito di un'attività di controllo tributario effettuato dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo di Gotto. Da qui la richiesta di sequestro avanzata dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto al giudice e successivamente l'intervento del Tribunale di Messina collegio per il riesame che con l'odierna ordinanza ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. In concreto la misura ablativa ha interessato i saldi dei conti correnti societari e del legale rappresentante estese inoltre alle quote societarie di sua proprietà e unità immobiliari fino all'interra concorrenza dell'importo oggetto dell'omesso versamento. L'azienda ispezionata era già nota alle cronache giudiziarie e agli organi giudiziari e investigativi spiegano dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Messina per il suo pregresso coinvolgimento in significative attività di indagine aventi oggetto la gestione monopolistica da parte di una cosca di indrangheta calabrese proprio del remunerativo settore della grande distribuzione alimentare e delle attività economiche collegate.